come eliminare un canale youtube molto semplice vediamo in questo video oggi come fare vado subito su youtube clicco il primo link da google che mi appare a questo punto attendo che la pagina mi venga caricata davanti in alto a destra troverò la decidura accedi ovviamente ci clicco sopra guarda di inserire il mio account su youtube narratore italiano seguito dalla relativa password di accesso a questo punto sono dentro al mio canale di youtube voglio cancellarlo voglio eliminare il canale come faccio concretamente parlando facile facilissimo andiamo clicchiamo l'icona del canale la mia eccola qua a questo punto ti usciranno fuori diverse diciture tu andrai nella dicitura che nella fattispecie concreta si intitola impostazioni che è questa qua che sto facendo vedere a te la vedi eccola qua ci clicco sopra a questo punto vado in basso alla mia sinistra ci sono diverse diciture non dovrei fare altro che cliccare nella scritta impostazioni avanzate impostazioni avanzate a questo punto vado a individuare la scritta elimina canale eccola qua vado a cliccare elimina canale per eliminare il mio canale di youtube andandoci a cliccare sopra il mio canale ecco che verrà cancellato infatti mi apparirà subito dopo una finestra andrò a confermare l'azione in questione cliccando proprio su no cliccando ma inserendo di nuovo la password e facendo poi un clic su invia su ok e ho cancellato il mio canale di youtube bene questo tutorial di oggi termina qua grazie da leandro a reso dal nostro narratore italiano di youtube italia iscrivetevi iscriviti commenta un saluto una buona sera da voi